Pratola una storia, la incontriamo ogni volta che camminiamo per le strade, i vicoli, il santuario, la piazza, le fontane. Diamo tutto per scontato senza considerarne le origini. Chi racconta ai giovani le storie della vecchia Pratola? E questa è la domanda che si pose Ornella de Prospero quando trovò in soffitta i documenti firmati dal re Ferdinando di Borbone, i contratti del Trisavolo Notaio, le nomine siglate da Crispi e da De Petris, le pagelle degli AVI, studenti seminaristi a Monte Cassino, le lettere di suo padre dal confine. A 86 anni ha trovato la forza di mettere tutto nero su bianco nel suo testo La storia in soffitta, viaggio nella memoria, che sarà presentato domani alle 19 a Palazzo Santorocolella Pratola Pelinia. Il senso di questo testo è di fare, di dare una storia come veramente io l'ho vissuta, è la storia di una figlia, di una figlia di una famiglia di Pratola, di una ragazza dai 12-13 anni fino al dopoguerra. Il modo per sentire vicino a Pratola, lei sappiamo che non vive qui adesso, quindi con questo testo sente vicino a Pratola. Certo, certo, sento vicino i Pratolani, io sto bene solo a Pratola, lo devo dire, però perché mi sono decisa a pubblicarlo? Perché ho letto delle notizie antipatiche su mio padre dove lo descrivevano come il gerarchetto fascista qui là su e giù, tutte queste cose che ormai basta, nauseano, fanno proprio danno fastidio, allora mi è venuto un attimo di ribellione e ho scritto questo testo.